Ciao Maria Grazia! Ciao Piero! Che piacere vederti! Che stai a fare qua? Niente prendo un po' di sole. Eh si? Sto facendo due passi giusto per sgranchirmi le gambe. Ti vedo veramente in forma, sei splendida, sei bellissima. Senti Maria Grazia posso farti una domanda? Certo. E tu sei a favore della donazione degli organi? Sì sì. E allora me la dai? Presumo sia un no. Ma vabbè ci capi? Eh ciao!